Un po' come la trasmissione delle nostre partite, indifferita, ti facciamo gli auguri di compleanno, indifferita, ti auguri. Grazie, grazie mille. Come sta andando? Sì, stiamo lavorando bene, ora dopo la partita di Palermo dobbiamo recuperare veloce questi che hanno giocato. Noi altri abbiamo lavorato bene e sicuramente ora aspettiamo domani una buona partita. Importante far valere il fattore San Siro, potremmo chiamarlo così, visto che chi è passato ha pagato un prezzo alto. La partita di Palermo che cosa lascia? Un po' di rabbia per non aver portato a casa i tre punti probabilmente. No, credo tanto rabbia perché volevamo fare tre punti, non avevamo riuscito e ora contro l'Atalanta a casa sicuramente si deve vincere. Vogliamo tutti vincere per tutti i costi. Un gruppo che è proprio gruppo e lo si vede nelle scelte di Mazzari, nell'impegno e nella volontà collettiva che mettete. State giocando un po' tutti perché giustamente una gara ogni tre giorni può farsi sentire nelle gambe, soprattutto per esempio con un caldo come quello dell'altra sera a Palermo. No, come avete detto, mister c'è tanto scelte, tanti giocatori, siamo una rosa molto grande. L'importante è che tutti sono disponibili e si fa sempre, chi non gioca si allena bene e dopo quando arriva l'occasione deve fare il massimo. Questo stiamo tutti facendo, il gruppo c'è, siamo tutti insieme e lavoriamo forte forte. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.ito, chiama all'199 100 200, prova Interchannel e poi scegli.